L'idea di scegliere il nuovo allenatore ha subito fatto il nome al presidente, abbiamo convenuto dopo l'incontro con lui che fosse la persona giusta per guidare la nostra squadra. Sono d'accordo con lui riguardo al fatto che non servono i proclami, serve tanto lavoro, abbiamo deciso di affidargli la nostra squadra per due anni quindi abbiamo tanto da fare, tanto da lavorare e dobbiamo così rimboccarci le maniche e dargli la possibilità di dimostrare tutto il suo valore. È un allenatore molto stimato dagli addetti ai lavori, molto apprezzato dai calciatori, sono convinto che farà un ottimo lavoro qui a Viterbo.